Io non ho mai visto Jurassic Park quando ero bambino perché avevo una paura atroce. L'ho rivisto a 14 anni, però per me la passione di Dinosauri è nata proprio dal documentario di questi due famosissimi ormai giornalisti scientifici italiani e da lì poi è partito tutto. Ho avuto la fortuna che mio padre e mia madre sono stati sempre molto favorevoli a questa cosa, sperando che magari io lasciassi lungo la strada dicendo ma sì è la passione degli elementari, arrivo alle medie, ma sì è una passione da teenager, passerà, arrivo alle superiori, ok dai arriverà alla fine delle superiori che dirà boh vado a fare il meccanico. Entro all'università di scienze naturali e lì i miei genitori, ah abbiamo un problema e poi però ovviamente scherzo, sono sempre stati molto comprensivi e di supporto quindi sono arrivato adesso a fare il dottorato all'estero proprio su i tizi qua dietro di me. Quindi diciamo questo è un po' stata la mia infanzia, la mia storia per quanto riguarda i dinosauri. Ma durante il tuo percorso di studi è andato tutto liscio oppure per esempio c'è stato qualche intoppo, qualcosa che non è andato come doveva? Non c'è mai stato un vero intoppo, anzi io mi sono, recentemente ho fatto un'intervista con un mio amico e lui mi ha fatto la stessa domanda e mi sono sorpreso nel vedere come io sia diciamo l'eccezione per questa cosa. Perché tanti da piccoli vi piacciono i dinosauri, poi cresce vi piace l'astronomia, poi però andate a scuola, andate all'università e capite che magari siete portati non lo so per l'architettura, finite l'architettura però capite che magari vi piace l'arte e allora andate a fare arte. Ed è una diramazione continua come è normale che sia. Poi arrivano gli strani, tipo io, che inizia, voglio andare al superiore a studiare biologia perché voglio fare paleontologo, inizio l'università scienze naturali perché voglio fare paleontologo, inizio la magistrale per andare a fare paleontologo, prendo il dottorato per diventare paleontologo. Quindi è stata una linea continua che non ha mai avuto un intoppo, non ha mai avuto un pensiero diverso. L'intoppo c'è stato non aver vinto il dottorato da qualche altra parte. Avessi preso il dottorato su, non lo so, come doveva essere un collo lungo del Sudafrica, adesso per me la vita sarebbe completamente diversa. Oppure l'altro che avevo provato era lo studio della massa dei dinosauri in Francia e adesso sarai completamente diverso, però diciamo sono minuzi e per quanto riguarda la strada generale principale non c'è mai stata una deviazione. Anzi, mi sono ritrovato a pensare, ma se io avessi fallito, metti alla fine delle superiori, avessi cambiato idea, cosa sarei diventato? Sinceramente non lo so, non lo so. Si vede che la tua strada era proprio segnata per fare paleontologo probabilmente. Ma forse qualcosa sulle arti marziali, cultura giapponese, magari doppiatore o traduttore, boh, non so. C'è qualche persona, pensando un po' al tuo percorso, che è stato un po' il tuo mentore, se vuoi, che ti ha un po' più illuminato e guidato nel tuo percorso a cui tu sei magari particolarmente legato? Allora, quando ero piccolo, questo suono era stranissimo, ma quando ero piccolo, proprio sei, sette, cinque, sei anni, la persona, perché comunque avevo Piero Angela, però per me era un po' una sorta di divinità virtuale, perché lo vedevo solo in tv. La persona che invece fisicamente mi ha fatto coltivare la passione, incredibilmente è stato un prete, che a Trissino, nel mio paese d'origine, c'era questo prete appassionato di scienze naturali, che un po' mi incentivava durante i vari campi scuola, le lecite con la parrocchia, comunque mi incentivava a leggere, a studiare dinosauri e a chiacchierarmi. Poi, crescendo, comunque sono entrati in contatti, almeno virtuali, quindi come immagine di paleontologi famosi, Jack Horner, il paleontologo di Jurassic Park, Robert Bucker, che per quelli un po' più anziani qua è quello famoso con la barba e il cappello da cowboy, che tra parentesi ho incontrato personalmente, ci ho anche bevuto una birra insieme con entrambi, quindi bellissimo. Se proprio devo trovare un mentore, è il paleontologo canadese che mi ha aiutato con il dottorato adesso, Darren Tenky, che sono stato a casa sua diverse volte, abbiamo chiacchierato un sacco di dinosauri, delle sue avventure negli anni 70, quando trovava tirannosauri completi in Alberta, così camminando, camminando così, una camminata della domenica pomeriggia, Otto, un tirannosauro completo. E quindi diciamo come mentore fisico effettivo che conosco, con cui ho un rapporto e lui. Però se proprio devo parlare di persone che mi hanno ispirato, devo anche aggiungere a tutti i miei colleghi della mia età o più anziani, perché comunque, soprattutto adesso con l'internet, con i social media, Whatsapp, Facebook, Instagram, comunque siamo sempre tutti quanti collegati. E quindi, boh, ho bisogno di qualcosa, parlo con lui. Mi sento un po' giù perché il mio articolo è stato rifiutato, parlo con lei. Quindi diciamo che c'è questo mentoraggio in rapporto uno a uno tra me e i miei colleghi continui. Sì, è come formato una sorta di comunità barra famiglia, una sorta di sostegno, di mutuo aiuto, come si dice in alcuni casi. Già, il campo nostro è piccolo. Già è difficile di suo. Se iniziamo a farci anche la guerra tra di noi non se ne va fuori. Quindi stiamo tentando di essere tutti quanti amici. Bene, bene. E quindi pensi di, ritornando a una delle domande che ho fatto prima, di aver trovato la tua strada? Ah beh, sì, la mia strada, più che altro è che non so dove questa strada continuerà. Cioè, so dove continua, ma lo so da qui a qualche anno, non so da qui a dieci. Perché faccio il ragionamento opposto. Se io torno indietro di dieci anni e dico al Filippo di dieci anni fa Filippo caro, fra dieci anni tu pubblicherai il tuo dinosauro, questo qui che è il tuo dinosauro preferito, il mio di dieci anni fa dice Vai, vai, mi smamma. Quindi non so da qui a dieci anni. Io che insomma che ti conosco, che ovviamente ti seguo soprattutto, quello che sei all'estero, l'occasione per seguirti è quello magari che uno può pubblicare sui social, che insomma sono adesso diventati proprio un mezzo anche per rimanere in contatto, indipendentemente da l'ultimo anno pandemico, ma anche prima, soprattutto quando nel tuo caso che ti lavori, studi all'estero, è un modo magari per riuscire a comunicare più facilmente e a mantenere, come dicevo, prima dei contatti con quelle persone che si conoscono. Ho visto che hai girato parecchio nel mondo degli scavi e qual è stata l'esperienza, non so, più esaltante, quella che ti ha dato di più. Allora, un po' per tutta l'audience, io ho scavato in Spagna due stati, in Portogallo, qualche giorno in Germania, qualche giorno in Inghilterra, di scavi grossi li ho fatti in America, nel deserto del Nevada, nei calanchi del Wyoming, nei calanchi dell'Alberta e nella Russia orientale. Allora, quasi tutti i dinosauri a parte il Nevada. In Nevada eravamo con erettili marini, tiosauri giganteschi del Triassico. Allora, quello a cui sono più affezionato è lo scavo dell'Alberta, perché l'Alberta è la mia regione al mondo preferita. Io ci andrei a vivere tipo domani, mi dicono, Filippo hai un piccolo lavorino al museo dell'Alberta. Allora, parto. Non me ne frega niente di pandemia, non me ne frega niente di lockdown, prendo, vado. Non me ne frega assolutamente nulla, da quanto amo quel posto. C'è un luogo in Alberta chiamato la Dinosaur Provincial Park, il parco provinciale dei dinosauri, che è un parco naturale gigantesco, dove veramente i dinosauri, o almeno le ossa di dinosauro, saltano fuori come funghi. Cioè, ci camminate sopra da quante ossa trovate in giro. È una cosa incredibile. Però, i miei viaggi più avventurosi sono stati due. Il primo è quello nella Russia orientale, ma non tanto perché sono andato in luoghi impervi, quanto è proprio il fatto di essere andato nella Russia, quella più ad est da solo. È stata un'avventura assurda. Lo scavo più avventuroso, che più mi ha fatto provare, è proprio la sensazione dell'Indiana Jones, per dire, in Nevada. Deserto del Nevada, a cinque ore di macchina, dalla città più vicina, dal villaggio americano più vicino, veramente in mezzo al nulla, davanti a delle montagne, delle Augusta Mountain, completamente alla mercè della natura. In tenda, due settimane, in mezzo al deserto, di notte, a vedere la Via Lattea, completamente formata, perfetta, senza un minimo di luce, con serpenti assonagli, scorpioni, puma di montagna. Bellissimo, bellissimo. Veramente, quello è stato il viaggio più, lo scavo più avventuroso che ho fatto. Quello sì. Quello, quello che ti ha colpito di più è la cosa più interessante che hai scoperto in uno di questi viaggi, quella sì, più interessante. in Portogallo, il primo giorno che sono arrivato in Portogallo, la persona che spero in futuro diventerà uno dei miei capi, mi fa, Filippo, andiamo in spiaggia a cercare dinosauri, perché in Portogallo, cioè, vai in Nevada, vai nel deserto, nel Wyoming e in Alberta, vai nei Calanqui, che è una sorta di deserto, sono posti imperdi, belli ma imperdi. in Portogallo, i dinosauri li trovi in spiaggia, davanti all'oceano, mentre sorseggio una birra, è la cosa più bella del mondo. Comunque, primo giorno di scavo o comunque di ricerca di fossili in Portogallo, io sto camminando insieme al mio collega e troviamo una vertebra di collo lungo, troviamo la scapola di un dinosauro arbivoro e stiamo camminando e vediamo un piccolo pezzettino nero, che in quel caso sappiamo che i pezzettini neri sono quasi sempre ossa, fossili, vediamo, c'è, ok, un pezzo di fossile. Torniamo dopo cinque giorni per scavarlo propriamente, questo è una stampa 3D, questo è un osso che non ve lo faccio vedere bene perché sarà pubblicato, quindi non potete vederlo troppo, ma questo è un osso che io ho trovato, io ho scavato, io ho studiato e che pubblicheremo a breve. Il femore? Sì, ma non vi dico di cosa. Va bene. Perché se sembra di qualcosa di... Vi dico solo, vi dico solo, comunque bravo per aver riconosciuto il femore per quei tre secondi di fotogramma cui l'ho fatto vedere, non è un dinosaurio. Quando conosci bene il femore, tipo, quando lo vedi dopo un... quando ci senti a bit soprattutto che è abbastanza una forma un po' particolare il perle, soprattutto quel pezzo lì che hai mostrato è proprio significativo del perle, non del perle, del femore. Però vi dico, non è un dinosauro. Scusi, ma lo puoi far vedere un attimo? Eh, no. No, mi spiace. In velocità, su e giù, dai. Eh, eh, fatto. Eh, è uno pseudosucco. Esatto. un attimo che ho visto una domanda. Allora, hai mai trovato un fossile di T-Rex o Velociraptor? Purtroppo no. Il Velociraptor dovrei andare in Mongolia ed è uno di quei posti dove devo assolutamente andarci. il T-Rex. Allora, io dovevo andare in Montana a scavare e vedere se trovavo qualche osso di T-Rex. Però, ehm, era nel 2000, era nell'estate del 2020. Quindi, se ne riparlerà, spero, l'anno prossimo. Spero. Spero. Se no, bisogna portare i robocli che vanno nello spazio, no? Quindi, diciamo che scavi con i comandi del PC vai a scavare in questo modo ma siamo ancora un po' indietro su questa fortuna anche dai perché penso che c'è il, io ho scavato poche volte però quelle volte che l'ho fatto e che mi capita di farlo ancora è una sensazione particolare. Infatti, io proprio volevo chiederti cioè quando tu scavi che cosa provi? Che cosa ti dà? Che sensazioni ti prova con l'azione dello scavo e poi magari di scoprire un qualcosa? Allora, la sensazione è strana. Magari quelli più piccoli non la possono capire quindi mi rivolgo a quelli un po' più adulti nella chiamata. Quando voi, innanzitutto siete in mezzo alla natura e già quello vi pone in una posizione un po' più umile perché comunque dovete rispettare i tempi naturali in Portogallo per esempio dovevamo rispettare le maree perché essendo sulla costa se c'è alta marea non si può scavare perché è proprio se sei sott'acqua e quindi bisognava stare attenti proprio alla natura quindi all'arrivo delle maree oppure no. In Nevada devi stare attento a che se sposti una pietra non ci sia un serpente personali sotto che ti morde e buonanotte a tutti quindi c'è quella questione lì per quanto riguarda lo scavo di per sé ovvero proprio trovare qualcosa la sensazione diciamo è molto personale cambia tanto perché se io prendo me stesso io la penso in un modo se prendo un mio collega la penserà in un altro e un altro collega la penserà in un altro per me la sensazione è quella di risvegliare un qualcosa che stava dormendo da milioni di anni perché effettivamente se ci pensate se c'è un un dinosauro sotto i sedimenti sotto la terra e voi scavate via e insomma portate in superficie un teschio completo uno scheleto completo o un osso voi siete i primi a che a poter vedere quell'oggetto da 66 75 140 milioni di anni cioè immaginate cosa ha passato quel pezzo d'osso per chissà quanto tempo e voi siete i primi a vederlo da quando è morto milioni 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 di anni fa solamente questa percezione solamente questo pensiero ti fa ti fa veramente esplodere la testa e diciamo che io ho questa cosa molto molto romantica nel senso medievale del termine che non appena libero un osso e lo tocco mi sembra di sentire l'anima che sta uscendo dai sedimenti che la stavano intrappolando sotto la terra una visione molto romantica nel senso medievale però quello è quello che provo poi magari arriva a quello ma sì è un osso vecchio prende e butta nella cesta dipende molto dalle persone sì un'altra cosa che mi è venuta in mente finché dicevi questa cosa delle sensazioni e di ridare diciamo non dico ridare vita però toccare quasi con mano qualcosa che comunque ha vissuto milioni e milioni di anni fa quando poi proprio una cosa pratica magari per i più giovani in questo caso cioè tu quando poi estrai i materiali non è che lo scavi lo trovi e lo prelevi subito ci racconti un attimo anche le attenzioni che bisogna avere nel momento in cui vai ad eseguire un'azione di questo tipo che non è scavo con le mani con gli strumenti raccolgo metto dentro il cesto come dicevi tu c'è tutta una una logica di una fase di step di fasi per non perdere magari dei dati importanti significativi quando andate a scavare spero che lo farete innanzitutto non potete andare lì prendere prelevare e portare via prima di prendere prelevare c'è tutta una preparazione a livello geologico quindi dove dove siete in quel momento in che posizione siete le coordinate geografiche eccetera 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 quindi tutta la questione di contesto poi mettete caso che c'è che c'è un dinosauro come quello che ho trovato prima quello che vi ho fatto vedere prima su una roccia dovete attrezzarvi scavare praticamente isolare l'osso e molte volte l'osso è praticamente quasi incollato alla roccia quindi non potete nemmeno solo perché lo rompete semplicemente lasciando metà parte incollata alla roccia e metà di rimane in mano quello che noi facciamo è spendere molto tempo molte energie per creare una sorta di ingessatura un po' come quando vi rompete il braccio che vi ingessano stessa cosa ingessatura sopra insomma tutto tutto l'osso e poi quella maglia di gesso questo enorme blocco bianco molto pesante si può staccare e lo portate poi in laboratorio dove verrà preparato quindi diciamo che l'idea della paleontologia dello scavo del dinosauro nel senso più commerciale del termine ovvero pala piccozza scalpellino e no bruschetta come si dice in italiano spazzole di andare lì papapap prendi porti via sbagliatissimo proprio sbagliato c'è tutta una preparazione prima durante e dopo scavare per quanto può sembrare semplice dal punto di vista così applicativo in realtà è molto complicato scusa vai vai no si figuri prego no volevo solo perché abbiamo un giovane un giovane spettatore Cesare che ha chiesto che voleva sapere il dinosauro alle spalle di Filippo e Lorenzo ha dato giustamente la risposta però magari tu Filippo riesci con parole più semplici a far capire chi è questo signore purtroppo non posso dire con parole più semplici il nome perché il nome è quello però magari lo descrivi un po' glielo racconti allora il nome è Parasaurolopo è un dinosauro erbivoro lo vedi da questo becco da questo muso molto da papera che è vissuto 75 milioni di anni fa in Alberta in Canada ed è tenuto al museo a un museo canadese quello di Toronto è un dinosauro molto grande molto grosso sui 3 metri per 10 12 metri di lunghezza ed è caratterizzato da le faccio vedere dalla mia maglietta da questo corno sopra la testa cavo che è un po' l'estensione del naso prendi il tuo naso te lo porti indietro e lo fai crescere a cresta dietro la testa e questo qui serviva innanzitutto per respirare meglio secondo per riscaldare l'aria e quindi respirare anche meglio ma anche per produrre suoni infatti si è visto che questo dinosauro era capace di produrre dei suoni molto bassi di frequenza capaci di correre per lunghe zone di ambiente quindi per farsi sentire da amici anche da nemici arriva un prodattore arriva non un tirannosauro perché tirannosauro è più recente questo qui veniva predato da gorgosauro o da spettosauro che sono due cucini del tirannosauro arriva questo da spettosauro il capobranco fa questo grosso mugito chiamiamolo tutti se ne accorgono e tutti scappano se posso fare una domanda vai allora Filippo una domanda che ti volevo fare spesso e volentieri la scienza in generale ma soprattutto le discipline della zoologia di cui io mi occupo io sono laureato triennale in biologia e sto per laurearmi in ecobiologia queste discipline e soprattutto la paleontologia vengono bollate come inutili e questo spesso e volentieri viene utilizzato dai genitori dalle mamme da papà per dire lascia perdere vai a fare qualcosa che ti fa trovare un lavoro e questo penso sia molto importante da capire soprattutto per insomma i giovani spettatori che abbiamo questa sera ovvero perché non devono lasciare perdere se è proprio quello che vogliono e quali sono le potenziali applicazioni della paleontologia che vanno oltre il ehi sono andato a fare da consulente su Jurassic World e mi hanno completamente ignorato è vero perché comunque Jurassic Park per quanto bello sia e anche World diciamo che sono film quindi il paleontologo che dice guardate che il tirannosauro non ha i polsi così ma li ha così e può fare solo così poi il regista dice ma io voglio che fa così e il regista dice e fa quindi quello è allora il problema della paleontologia come anche quello della non è anche della geologia ma della zoologia e di altre branche è che non c'è una non c'è un fine pratico uno studio geologico la geologia può essere pratica perché il geologo aiuta l'architetto che aiuta l'ingegnere che aiuta il geometra per costruire case in zone antisismiche permette alle frane di non crollare quindi di proteggere le persone quindi il geologo ha un effetto pratico più attivo rispetto a un paleontologo però il paleontologo perché studiare dinosauri e qua mi rivolgo i bambini se lo vorrete fare perché studiare dinosauri ci sono vari motivi il primo è perché no molte volte queste cose bisogna studiarle semplicemente perché c'è bisogno di studiarle per il fine di se stesso se quella volta Cristoforo Colombo non fosse andato a scoprire l'America perché lo voleva fare saremmo senza America e adesso sarebbe conosciuta in un qualche altro modo il mondo sarebbe andato completamente da un'altra parte ma Cristoforo Colombo non voleva andare a trovare l'America perché voleva trovare l'America perché voleva scoprire e voler studiare i dinosauri significa voler scoprire cosa è successo 66 70 140 220 milioni di anni fa poi studiare dinosauri permette di capire meglio l'evoluzione quindi capire meglio qual è il nostro posto sulla Terra e quindi aiutare tutte quelle altre discipline biologia eccetera un po' anche a risolvere problemi di adesso tipo cambiamenti climatici studiare dinosauri permette anche di capire come la vita si modifichi con il clima e in questo momento sta diventando molto importante come cosa lo parlavamo prima 20 gradi a febbraio non è che sia proprio una bella cosa e ultimo ma non ultimo i dinosauri possono essere un ottimo ponte per qualcos'altro e qua mi rivolgo i bambini bambini se io mi metto a raccontarvi vita e morte miracoli di un fungo voi vi interessate oppure no oh c'è chi dice di sì e qua sono sorpreso ok cambio esempio se io mi mettessi a farvi una lezione di matematica invece di parlarvi di dinosauri vi piacerebbe? esatto allora i dinosauri sono una una branca della scienza e i dinosauri hanno un impatto sui bambini l'hanno avuto su di me l'hanno avuto su tanti altri però io conosco tante persone che sono partite dai dinosauri e adesso fanno altro ho un mio collega che è partito con i dinosauri con l'idea di diventare paleontologo e adesso lavora come professore per quanto riguarda l'aspetto biologico degli alimenti un altro mio amico adesso è diventato medico e tutti sono partiti con i dinosauri uno che è partito con i dinosauri è andato a studiare fisica e lì si collega la matematica uno che è partito con i dinosauri è andato a studiare biologia marina perché ha visto che i dinosauri una volta che so raggiunta il primo anno universitario non gli piacevano così tanto però hey la storia evolutiva dei cetacei mi piace di più quindi i dinosauri per me tra le tante cose sono un ottimo punto di partenza per incentivare i bambini qui presenti per interessarsi alla scienza poi magari per carità di dio vi accorgete che studiare non fa per voi e andate a fare i panettieri con tutto rispetto per i panettieri però facendo i panettieri comunque rimarrete interessati ai dinosauri rimarrete interessati alla scienza e vedrete poi gli aspetti scientifici in una maniera molto più matura rispetto a chi non si è mai interessato ai dinosauri come a tante altre cose quindi diciamo che i dinosauri possono essere l'inizio di tante cose parlo di dinosauri ma potrei parlare di animali moderni di coccodrilli antichi di pterosauri insomma quello che volete e prima c'era una domanda di Francesco hai mai trovato un mosasauro se io poi l'ho visto perché l'ho messo due volte no e no per i mosasauri ci sono andato molto vicino perché comunque si trovano sia in Europa in Olanda sia in Alberta dove ho scavato però purtroppo no i Quetzalcoatli sono molto 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 rari quindi o vai esattamente in quella zona e hai più fortuna che non vincere la lotteria oppure non lo trovi potrei fare anche una domanda certo siamo qui per questo ma hai studiato anche altri dinosauri allora sì allora per il mio primo studio è stato su l'oranosauro che è quell'iguano donte quello con il pollicione nella mano che però presenta quella quella vela sulla sulla schina per chi c'è stato a Venezia il museo di Venezia ha uno ha lo scheletro di questo dinosauro ed è lo scheletro che ho studiato io poi quando ho fatto la magistrale che quindi è l'ulteriore passo di studio ho studiato i colli lunghi i sauropodi diplodocus brontosauro e altri ho studiato un certo aspetto che purtroppo non sto qui a spiegarvi a voi bambini perché è molto difficile da capire e adesso sto studiando questi animali qua più ho il femore che vi ho fatto vedere prima che è un tutto un altro tutto un altro animale però di base ecco non aspettatevi che io vi parli del tirannosauro per dirvi mi spiace so che lo adorate perché il tirannosauro attrae i bambini il tirannosauro non lo sopporto non lo sopporto preferisco i dinosauri erbivori datemi un triceratopo datemi uno stegosauro datemi un diplodoco datemi un parasaurologo io sono contentissimo infatti Filippo se posso fare un'altra domanda non è che lo odio a morte semplicemente il tirannosauro è noioso volevo fare un'altra domanda proprio per questo proposito da un po' come dire abbiamo i diversi cerchi quelli fuori dalla paleontologia come dire prendiamo l'esempio dei bambini i bulli che a scuola ti dicono perché ti piacciono i dinosauri sono tutti morti all'interno della cerchia i bulli paleontologi che ti dicono ma perché ti piacciono i dinosauri erbivori sono erbivori cioè nel senso il tirannosauro il carcarodontosauro il giganotosauro lo spinosauro eccetera c'hanno tutti quel fattore figo da dragone bestia dell'inferno che ha un po' di come dire appeal all'ipello di cultura generale e io ti vado a chiedere cos'è che trovi di così bello lo so che cosa ti trovi di bello perché lo trovo bello anch'io per dirlo anche ai come dire ai nostri spettatori piccolini qua cosa c'è di tanto bello nel parasauro olofo e in tutti i dinosauri che hai studiato fino ad ora specificamente le specie che hai studiato io questa è una domanda difficilissima è come chiederà un interista perché ti piace l'inter eh no eh no non mi paragonare con il calcio però no è un esempio che possano capire tutti cioè vado da mio fratello che cioè se io sto ai dinosauri il mio fratello più grande sta all'inter cioè abbiamo lo stesso livello di pazzia ve lo giuro io vado da lui e dico perché ti piace l'inter non è che mi dice perché mi piace il nero e l'azzurro insieme non è che mi dice perché mi piace Ronaldo quando giocava nel 98 piace punto cioè perché mi piacciono questi dinosauri vi potrei sciorinare una lista dei motivi però sono motivi che secondo me non hanno valore io vi posso dire la storia evolutiva di questi dinosauri che sono partiti da dei scriccioli di pochi metri fino a diventare dei dinosauri giganteschi con un certo grado di socievolità di società col maschio adulto con la cresta che fa i suoni che comunicano eccetera eccetera vi potrei dire per l'anatomia perché ci sono degli aspetti anatomici tra le vertebre e le azam però lo potrei dire per tanti altri la storia evolutiva dei cetacei è molto interessante l'aspetto anatomico dell'evoluzione degli uccelli è molto interessante non è che una cosa sia meglio dell'altra semplicemente mi piacciono punto Flippo io avrei una domanda sì prego allora ti volevo chiedere siccome ultimamente più che mai mi capita quando leggo delle ricerche scientifiche soprattutto di andare a guardare chi sono gli autori e mi rendo conto che oggi più che mai c'è una multidisciplinarietà incredibile recentemente mi era capitato di leggere un articolo su dei cani preistorici avevo trovato collaborazioni tra veterinari geologi archeologi ora ti volevo chiedere se nel tuo caso nel tuo percorso tu ti sia trovato a collaborare o comunque abbiano collaborato in maniera decisiva dei geologi o comunque se tu abbia collaborato con dei paleontologi con background da geologo comunque in Italia c'è qualche qualche diciamo esponente famoso vediamo ad esempio Fanti Federico Fanti che comunque ha un background da geologo ha fatto anche vari pubblicazioni comunque più da geologo però è comunque un grande paleontologo e quindi volevo chiederti se tu hai avuto collaborazioni del genere da parte di geologi o paleontologi con background così faccio prima un piccolo preambolo per i ragazzi e ragazze qua in gruppo se voi volete diventare paleontologi ci sono allora innanzitutto studiate quindi quando tornerete a scuola e spero per voi che lo facciate presto in tutta sicurezza studiate 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 soprattutto studiate l'inglese quando voi avete lezione di inglese non dite eh che schifo l'inglese no imparate e fatevelo piacere perché se volete fare paleontologo volenti o non volenti dovete sapere l'inglese eh purtroppo la storia è questa quindi quando tornerete a scuola andrete dalla vostra insegnante di inglese a dire maestra professoressa ho intenzione di cambiare ho intenzione di imparare l'inglese per bene perché voglio fare paleontologo perché poi andrete all'università e potrete decidere come diventare paleontologo ci sono due strade la prima è quella che ho fatto io scienze naturali quindi studiate biologia botanica anatomia biologia microbiologia eccetera per studiare un po' come funziona il dinosauro l'altra strada che se non sbaglio Silvia l'ha fatto Silvia è una di quelle è fare geologia quindi sì sì una di quelle quindi capire come si sono formati i sedimenti quanto vecchio è un dinosauro in che tipo di ambiente viveva un dinosauro perché se un dinosauro viveva sulla costa il sedimento sarà diverso rispetto a se viveva in montagna e questo lo si impara appunto dalle analisi geologiche e da qui allora io ho collaborato con vari geologi geopaleontologi geologi puri no però geopaleontologi sì Fabio Marco Dalla Vecchia è uno di quelli con cui ho studiato appunto l'oranosauro e Matteo Fabri che adesso è un dottorando a Yale che lui nasce come geologo però studia dinosauri con lui ho lavorato con l'oranosauro e anche con il gripposauro che è uno di questi dinosauri che è al museo di Milano vabbè poi ho collaborato anche con Darren Tankey e David Evans no Evans lui è parte come biologo no Darren Tankey che è il mentore che ci avevo prima lui non ha studiato effettivamente all'università perché erano gli anni 70 però lui di base sarebbe un geologo come si dice che si è formato da solo per quanto riguarda gli altri ho dei colleghi non ci ho ancora collaborato ma forse in futuro ci collaboro soprattutto chi studia geologia spesso finisce a lavorare anche con le impronte impronte fossili perché le impronte fossili sono molto collegate all'aspetto sedimentario sedimentologico e quindi studiare le impronte arriva sempre da una base geologica purtroppo purtroppo non ho ancora studiato eventuali impronte fossili però in futuro potrebbe essere quindi quindi per concludere geologi puri no geopaleontologi sì ok grazie e poi c'era penso sempre Francesco adesso riapro la chat che ti chiedeva qualcosa sui veloci rattol però devo riguardare penso che se mi piacciono i veloci raptor allora devo essere sincero quando avevo 14-15 anni ero molto interessato ai raptor ai drobinozauri i veloci raptor dei noni coutaraptor a kilobator eccetera 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 però poi ho sono passato sono passato a loro perché non lo so non chiedetemi perché semplicemente ho cambiato squadra da Inter sono passato a Milan per dirla in termini capibili da tutti non lo so perché può essere il fascino intrinseco di una mucca coccodrillo con un trombone dietro la testa che pesa quanto un camion forse se vuoi mettere quel quel significato mettilo pure chi sono io a dire di no e adesso appunto prima finché aspettavamo un po' che arrivassero anche le persone diciamo con Filippo che sta terminando la sua tesi di dottorato perché lui adesso è a Belfast in Irlanda e e quindi diciamo che passerà oltre adesso che concluderà anche questa fase questo percorso per per proseguire però ha detto che ha qualcosa che bolle in pentola però non ce lo vuole svelare un po' per scaramanzia visto che l'anno che è appena passato non è stato proprio dei migliori e quindi tiene un po' lo lo tiene così un po' per scaramanzia è silenzioso però indipendentemente dal tuo silenzio quale sarebbe il tuo obiettivo ecco allora l'obiettivo mio sarebbe arrivare a lavorare in un museo in pianta stabile come professore universitario mi piacerebbe molto ma non mi piace l'ambiente accademico e penso che qui in tanti converranno con me su questa cosa ok va bene allora dopo dopo il dottorato devo andare in quel posto che non andrò a dire perché ve lo potrei anche dire perché tanto la cosa è sicura però mettete caso che siccome il 2020 è andato male e il 2021 non lo so magari salta fuori qualcosa di peggio e mi chiamano da questo posto a dire Filippo mi spiace ma non se ne fa nulla e mi ritrovo a dire alle persone ma non dovevi andare a luogo Y no quindi quindi non ve lo dico per questo però aspettate qualche mese non più di tanto ma ci puoi svelare se sei qui in Italia o sei all'estero Europa Europa non Italia non Italia Europa Europa va bene siamo riusciti e con Europa intendo Europa 2021 quindi non l'Inghilterra dal Regno Unito me ne vado basta possibilmente dopo questo luogo Y di sicuro a meno che non mi salta fuori l'Alberta per dire se mi chiamano in Alberta di nuovo mollo capre cavoli e me ne vado me ne vado in Alberta a meno che non sia Alberta Portogallo dovrei andare in pianta fissa in Portogallo dove e adesso metto un po' di pepe alle persone soprattutto ai ragazzi qua in chat soprattutto quelli i giovani qua ragazzi se voi studiate quindi se voi imparate l'inglese e voi continuate con la vostra strada e arrivate all'università quindi fra dici anni teoria fra dici anni ci sono ancora facendo le scaramanzie in Portogallo allora in Portogallo sta diventando una delle principali zone di dinosauri in Europa se non al mondo ci sono un sacco di cose da scavare un sacco di posti da visitare e in Portogallo potrei avere una posizione un po' importante e ve lo dico gli scavi all'estero cercano sempre volontari vi dovete semplicemente pagare il volo e di base l'istituzione che organizza lo scavo vi supporta con di alloggio quindi se fra dici anni continuerete con questa strada e arriverete a studiare all'università e volete fare delle esperienze provate a ricontattarmi e vedere se in Portogallo organizziamo qualche scavo perché abbiamo sempre bisogno di manovalanza gratuita perché esattamente come ho fatto io esattamente come abbiamo fatto in tanti il modo migliore per imparare il lavoro del paleontologo e anche per costruirsi una rete di collaborazioni è andare a scavare sembra che dallo sguardo di Francesco lui potrebbe essere un possibile volontario vero Francesco ho visto bene le immagini di felicità di risultanza quindi quando tornerete a scuola dai vostri insegnanti dite voglio prendere tanti bei voti voglio studiare perché devo andare a fare paleontologo ecco vedi quindi adesso Francesco si insegnerà e poi se no li faremo noi da tramite per rimanere in contatto con te insomma quindi l'idea di dare qualche stimolo questa sera c'è stata insomma perché in Italia c'è questa idea che non si può andare a scavare perché ci sta il museo ci stanno le persone importanti dietro che in Italia purtroppo è così a meno di eccezioni perché le eccezioni ci sono sempre ma di base in Italia purtroppo c'è questa idea molto baronesca che lo scavo è di qualcuno punto e basta all'estero in Spagna io ero partito con questa idea non posso andare a scavare dinosauri perché ci stanno le persone dietro io ho conosciuto una persona che mi ha detto guarda che in Spagna cercano io ho mandato una mail in Spagna al direttore Angel Gallobarth che è un paleontologo guarda ho sentito che cercate volontari è vero sì tu ti paghi il volo noi copriamo vita alloggio se vuoi venire vieni io mi ricordo ancora quel giorno che mia madre venne in camera e la porta era la mia sinistra da quanto bene mi ricordo mi era arrivata questa mail e io stavo piangendo e mia madre mi fa ma cosa hai e io vado a scavare dinosauri e avevo 19 anni è stato il mio primo scavo e lei come scusa vado a scavare dinosauri devo solamente pagarmi il volo Ryanair Verona Barcellona che la gente ci va in vacanza e io sono andato a farmi due settimane di scavo il mio primissimo scavo dove è stato tanto che non abbia rotto un osso da quanto ero inesperto però io ho imparato tanto lì mi sono fatti i primi contatti lì mi è stata data la tesi triennale quindi ma ecco a proposito di questo io volevo dire quanta dose di coraggio c'è voluta per arrivare dove sei arrivato adesso in generale o per gli scavi ma in generale cioè nel senso per costruirti la tua strada ecco allora non direi parlare di coraggio perché non mi piace parlare di coraggio perché poi la gente dice ah ma allora ci si aspetta qualcosa da me e la gente cioè seghi le gambe che per carità di Dio va anche bene segare le gambe perché è una sorta di setaccio perché ecco questo è quando mi vengono a dire Filippo a me piacerebbe studiare dinosauri ok cos'è che ti muove ma non lo so vorrei provare no se tu mi dici voglio provare no proprio scordatelo di di voler fare di intraprendere questa strada perché in questa strada purtroppo il lavoro del paleontologo è molto ristretto c'è molta competizione ci mangiamo le mani a vicenda se uno dice voglio provare come dire vado a fare giurisprudenza perché tanto non so cosa fare no lascia stare quindi non parlo tanto di coraggio quanto più di capabilità ovvero tu sai che stai per intraprendere una strada di per sé già quasi impossibile devi di sapere che il fallimento è sempre dietro l'angolo che momenti di tanti 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 momenti di difficoltà di sconforto ci saranno però testa testa bassa capo capo dritto cioè tu a buttare giù muri con la testa perché e non è una questione di coraggio secondo me perché il coraggio è anche stupido dire coraggio perché non sia mai coraggio vita naturale durante ci sono i momenti di di timore e paura semplicemente capabilità cioè tanti ti dicono no ma non lo fare perché non trovi lavoro no non lo fare perché è inutile tu dici va bene voi non lo fate io sì cioè preoccupatevi per voi non per me semplicemente quello sì quindi tantissima determinazione sì sì tanta grazie figurati sì Francesco volevo farle una domanda non tanto riguardante gli erbivori o comunque il tema che si è asseguito adesso è una domanda che ci tratta sulla vela del tirare dello spinosauro volevo fare questa domanda che cosa pensa quale sia la sua funzione perché ci sono molti ipotesi volevo sapere la sua allora incredibilmente per quanto io abbia detto che i dinosauri carnivori non mi interessano la vela dello spinosauro mi interessa molto perché il dinosaurio che ho studiato io l'oranosauro è un iguanodonte che anche lui presenta una vela che è molto simile a quella dello spinosauro quindi i due dinosauri si assomigliano sotto quel punto di vista quindi trovata la risposta uno potrebbe essere la risposta per l'altro allora non lo so non lo so ed è un problema è il problema un po' di tutti i paleontologi adesso perché lo spinosauro purtroppo non vedo il foglio Mattia mi spiace vedo un foglio bianco purtroppo scusa allora no fammi finire la risposta poi descrivimelo a voce Francesco allora il problema dello spinosauro adesso è che è ancora sotto studio e io sono in contatto con il team che lo studia ho amici che lo studiano diciamo che è un po' a un casino a un mio ritratto grazie l'ho visto grazie allora innanzitutto bisogna partire dal presupposto che lo spinosauro a quanto sembra è acquatico o comunque collegato a un ambiente acquatico che ci nuotava che ci camminava come un cormorano ancora non lo sappiamo con certezza però comunque è collegato all'ambiente acquatico la vela probabilmente lo serviva come un timone per irradiare il calore per stare con il corpo sott'acqua per farsi vedere dagli altri spinosauri quindi magari maschio femmina o diverse popolazioni tipo due città tra virgolette due città di spinosauri per far paura agli avversari durante che so il tempo degli amori o qualcos'altro è uno dei più grandi misteri della paleontologia di adesso effettivamente la vela dello spinosauro insieme alla vela dell'oranosauro perché non sembra che supportasse una sorta di grasso almeno dall'oranosauro nostro non sembra non sembra che supportasse una struttura muscolare boh è un mistero ancora non lo sappiamo abbiamo bisogno di più scheletri abbiamo bisogno di più fossili abbiamo bisogno di più ricerche abbiamo bisogno di più paleontologi che ci lavorano presenti futuri e quindi boh so che avresti voluto una risposta diversa ma effettivamente non lo sappiamo sono ancora dei vuoti delle cose da scoprire no adesso ce ne sono così ce ne sono così tante per esempio se qualcuno ecco se qualcuno di voi durante il corso della vostra del vostro studio del vostro percorso di studi magari vi interessate la medicina perché tanti si interessano la medicina ma vi interessate anche di dinosauri potete studiare la cosa che sto studiando io ovvero le malattie e i traumi nei dinosauri perché perché solamente adesso abbiamo iniziato a studiare questo argomento e vi giuro c'è così tanto da fare c'è così tanto da studiare così tanto da scoprire che io solamente non riuscirò mai a farlo da solo cioè quando morirò spero fra 80 anni no 70 o 30 anni 70 dai fra 70 anni avrò scoperto un altro un per cento se continua a lavorare ovviamente dell'aspetto patologico dei dinosauri perché è un argomento vastissimo c'è tantissimo da fare tantissimo da scoprire abbiamo bisogno di veterinari medici radiologi che siano interessati anche i dinosauri quindi e la paleopatologia e questa cosa dei traumi in malattia è solamente un aspetto ma ce ne sono mille altri la genetica con gli studi che stanno facendo sul pollosauro gli studi che stanno facendo nuovi adesso sui crateri tipo quello del meteorite che ha spazzato via i dinosauri o dei colleghi che lavorano al cratere dal belgio lo studio ci sono molte famiglie di dinosauri che ancora non sappiamo come si sono evolute e c'è da andare a scavare in alcune zone dove ancora pochi vanno a scavare Antartide i deserti dell'Arizona l'Alaska e c'è tanti dicono ma cosa vuoi scoprire ancora dei dinosauri abbiamo solamente grattato la superficie di un iceberg grande come l'Everest e forse era ancora più grosso potrei fare anche una domanda prego io me la chiedo sempre ma perché lo stegosaro ha queste spine sul dorso allora innanzitutto una piccola curiosità quando scoprirono lo stegosauro la primissima o una delle prime teorie sullo stegosauro che non fu mai pubblicata ma fu messa come immagine di un giornale tipo la stampa o il corriere della sera per dirvi venne messo uno stegosauro capace di volare con queste placche che facevano praticamente da da ali che che sbattevano e svolazzavano è un disegno che trovate sull'internet potete scrivere stegosauro volante in inglese e lo trovate allora nella stessa registrazione c'è in primo piano un uomo un umano che guarda lo stegosauro così quindi paleo contatto con firme vero 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 me ero dimenticato di sta cosa la primissima cosa che hanno pensato dello stegosauro era che o serviva per difesa ma in quel caso le placche erano appoggiate appoggiate al corpo quindi a coprire oppure che servisse la termoregolazione quindi che prendevano i raggi solari e l'animale si scaldava un po' come fanno i coccodrilli quando rimangono con la caperta poi si è visto grazie ad alcuni scheletri completi di stegosauro che queste placche stavano non parallele ma spaiate come si dice sulla linea della schiena rivolta verso l'alto e non se forse ho una connessione un po' giù ditemi voi ogni tanto scompari la voce perché ho visto che ho la connessione un po' giù scusate ma in Irlanda la connessione è qui che è dallo studio delle placche si è visto che non avevano chissà che innervazione di sangue quindi erano semplicemente delle placche d'osso senza troppo sangue e non serviva e non potevano servire quindi a riscaldare il corpo perché il riscaldamento avviene con circolazione di sangue una volta che c'è poca circolazione di sangue il corpo si riscalda meno quindi non serviva per la termoregolazione per la difesa erano strutture molto deboli quindi si pensa che sia per attrarre le femmine spaventare i maschi spaventare altri stegosauri oppure capire che lo stegosauro Tony fa parte della mia famiglia mentre lo stegosauro Stefano è di un'altra famiglia perché magari hanno una colorazione magari una famiglia ha una colorazione nelle placche un'altra famiglia ha un'altra colorazione quindi anche per dire ok famiglia A famiglia B questo è quello che pensiamo dello stegosauro poi nella coda ci aveva i cosiddetti tagomizer spine belle appuntite quelle servivano per difesa quello lo sappiamo perché abbiamo insomma i paleontologi hanno trovato delle ossa di allosauro quindi il dinosauro carnivoro che predava lo stegosauro hanno trovato delle ossa di allosauro con la punta di queste spine infilzata dentro è rotta quindi a prova che lo stegosauro faceva oscillare la coda per dire lo stegosauro e l'allosauro con queste spine quindi per difesa ok grazie infinite prego qualcun altro non siate timidi siccome scusa c'è qualcun altro che voleva parlare no ok non mi era sembrato risentire qualcun altro ok no siccome stiamo parlando ormai quasi quasi da tutta la sera di ornitopodi possiamo addentrarci tramite l'argomento tetisadros nei dinosauri nostrani magari anche per per i più giovani che che non ne sono troppo a conoscenza allora il tetisadros quello come ha detto il vostro come ha detto il vostro collega è il cosiddetto Antonio ovvero quel dinosauro erbivoro del beccodernato trovato vicino a Trieste non c'è solo Antonio ma ci stanno altri esemplari Bruno come è che si chiamano gli altri primis secondis un nome slavo dalla Slovenia e altri non mi ricordo è un ornitopode abbastanza antico probabilmente al di fuori dalla famiglia di questi qua però non posso non saprei dire di più perché perché alcuni miei colleghi stanno ristudiando in questo momento tutti gli esemplari per fare un mega studio di popolazione e sembra che verranno fuori delle cose molto interessanti hanno trovato alcune cose che non sembravano così evidenti dal primo scheletro Antonio ma il secondo Bruno ha fatto vedere che qualcosa di strano c'è in Tettisadros e quindi non saprei neanche dirvi cosa perché purtroppo non faccio parte dello studio però una volta che la pandemia finirà e si potrà viaggiare di nuovo in totale sicurezza io vi consiglio di andare in Friuli Venezia Giulia a Trieste uno a vedere il museo che hanno lì il museo di storia naturale di Trieste e due c'è la possibilità se riapriranno ovviamente sempre della pandemia perché hanno avuto anche un po' di crisi economica se riapriranno lo scavo di Antonio con Flavio Bacchia che è il geologo locale che faceva almeno sempre delle visite guidate al luogo dove hanno trovato Tettisadros e tutti i suoi fratelli praticamente perché è un branco ci sono mi pare undici esemplari di Tettisadros lì e chissà quanti altri posso dire una cosa prego secondo me anche a me però piace di non sapermi voi secondo me perché perché quindi se ti trovassi davanti perlomeno sì diciamo che hanno l'intenzione non hanno appena ti vedono l'intenzione di mangiarti forse quello e forse sono ancora vivi sì sì ma e qua spezzo una lancia in favore non solo dei dinosauri ma di tutti gli animali arbivori gli animali carnivori i dinosauri carnivori sono pericolosi perché ti mangiano ma se voi vi avvicinate a un leone che ha appena mangiato una gazzella intera scusate ho visto la domanda che mi ha fatto un po' sorridere dopo rispondo se trovate un leone se vi avvicinate un leone che ha appena mangiato una gazzella è rischioso ma non rischiate molto non fatelo sia mai che vi trovate di fianco un leone però se virtualmente vi avvicinate di fianco un leone che ha appena mangiato è un gattino è docile finché se andate lì e vi tirate un pugno in testa si arrabbia ma se vi avvicinate lui ha mangiato tranquilli amici come sempre perché comunque i carnivori hanno diciamo una capacità chiamiamola capacità cerebrale anche se ho un po' sbagliato una capacità cerebrale un po' maggiore rispetto agli arbivori perché i carnivori devono pensare alla tattica di branco alla tattica di caccia capire come una preda può reagire eccetera eccetera quindi hanno più ragionamento tra virgolette rispetto a un erbivoro l'erbivoro di per sé è tra virgolette stupido perché lui non ha bisogno di pensare a come cacciare si sveglia la mattina c'è l'erba per terra mangia l'erba non ha bisogno di mille ragionamenti per mangiare l'erba quindi di base un erbivoro è molto più pericoloso di un carnivoro perché l'erbivoro agisce più distinto se voi vi avvicinate a un ippopotamo entrando nel suo territorio anche se non avete intenzioni malvagie vi ammazza infatti in Africa ci sono molti più mazioni da ippopotamo che non da leone ma l'ipopotamo è erbivoro più onnivoro però di base è un erbivoro l'elefante l'elefante è molto pericoloso se non sapete come comportarvi perché è un erbivoro l'erbivoro è istinto puro il carnivoro magari ci ragiona un po' ma l'erbivoro è istinto puro quindi secondo me tornando indietro nel passato nel Cretaceo se voi vi avvicinate a un tiranosauro che ha appena mangiato un po' vicino potete arrivarci ma se voi vi presentate di fronte a un branco di questi questi vi caricano cioè vi caricano e vi spappolano questo è un treno di quasi 5-6 tonnellate che non io ne frega niente se siete erbivori e carnivori questo vi carica e come un cavallo vi pum vi stompa sopra quindi secondo me però poi 25 esatto io vorrei studiare un po' di più l'aspetto etologico però di base parere mio poi magari gli etologi mi dicono di no però per quello che ne so io un erbivoro è molto più pericoloso rispetto a un carnivoro proprio per questo motivo infatti intanto vedo che la mia connessione sta andando scusate purtroppo i meri che sono Filippo se posso fare una domanda non correlata aspetto un attimo che provo a staccare almeno il wifi dal telefono almeno c'è un po' più di linea sì posso? allora sono dovuto sentare un attimo ho avuto alcuni problemi a casa quindi non so se avete già affrontato questo come argomento ma cosa pensi tu in generale della rappresentazione dei dinosauri nella come dire nella cultura pronto? ti ho un po' bloccato la connessione che non sta più andando un momento c'è la connessione che non sta più andando è rossa ok dovremmo essere dovremmo essere esserci sì no no aspettiamo un attimo scopo 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 voglio cambiare forse se togliamo tutti il video lo aiutiamo però non lo so no no è un problema è un problema suo problema mio casa mia è terribile per il wifi purtroppo non ho altro mezzo comunque sembra che sia tornato sì sì è tornato posso? sì quando fra due o tre mesi mi sposterò in zona X in quella zona Y potrei avere un internet migliore Mattia non hai detto una stronzata assolutamente è un punto è un punto è un punto da discutere purtroppo è una cosa mi sembra che non ce la possiamo fare ci siamo? sì mi pare di sì ok ci dovremmo essere no noi sì tu no ok ok è diventato giallo il wifi si vuole abbandonare proprio verso la fine no scusa sono mortificato scusate beh va forse adesso va vi vedo bloccati adesso ti sentiamo se ti vediamo anche se in questo scatto ok adesso ti sentiamo sono mortificato scusate no vabbè è un problema è un problema al di fuori posso posso fare una domanda diciamo a livello generale no perché di nuovo sempre perché abbiamo persone giovani qua voglio dire siamo esposti continuamente all'immagine come dire pop no dei dinosauri e Jurassic Park e soprattutto in tempi recenti gli ultimi due nuovi film che sono usciti nella saga Jurassic World 2015 e Jurassic World Fallen Kingdom del 2017 e ovviamente questi film non rappresentano dei dinosauri scientificamente accurati non e soprattutto non lo vogliono fare a detta proprio dei registi e quindi ti volevo chiedere Filippo anche insomma per un attimo far capire anche qual è la differenza tra il dinosauro che vedi al museo il dinosauro che vedi sul sul libro sul testo scientifico il dinosauro che vedi al cinema e qual è la tua opinione sul cosa dovrebbe essere il dinosauro al cinema ovvero il dinosauro al cinema dovrebbe riflettere sempre la come dire la nostra la nostra comprensione di ciò che era quel dinosauro ti faccio un esempio il velociraptor di Jurassic World Blue immagino tutti i bambini qua conosceranno Blue la famosa Lessie dei film di Jurassic World Blue non è in alcun modo come dire una buona immagine di ciò che era veramente velociraptor né di ciò che erano veramente i parenti del velociraptor ok perché c'è sempre questa storia no avrete sentito anche voi bambini del velociraptor di Jurassic Park che in realtà è dei nonicus che in realtà non è nemanco dei nonicus in realtà ma vabbè e abbiamo tutta quella serie di problematiche no associate a Blue come gli altri velociraptors di Jurassic World ovvero non hanno le piume non hanno il piumaggio il loro cranio è completamente sbagliato la famosa storia dei polsi pronati da zombie di Giorgio Romero eccetera eccetera quindi secondo te è legittimo che vengano rappresentati così pur con tutte le come dire le decadi di avanzamento scientifico che ci permettono di avere un'immagine più accurata che non è quella di Jurassic World oppure va bene così e perché allora voglio rispondere facendomi aiutare da Francesco e Huawei Mediapad T5 che purtroppo non so il tuo nome te lo dico subito mi chiamo Leonardo ok ciao Leonardo allora Francesco e Leonardo vi faccio a voi la domanda i dinosauri di Jurassic World a voi sono piaciuti oppure no a me sono piaciuti sì ma per il comportamento potrei anche potrebbero anche ignorarlo perché ok non mi sento tanto Francesco sì sono piaciuti però un mese come ha già sottolineato esatto sì non sono rappresentati bene nel senso i dinosauri di natura dovrebbero avere le piume e di sicuro non sono in sinfonia con gli umani in certo non puoi addestrare un dinosauro i dinosauri seguono il loro istinto naturale e basta allora grazie per le risposte non mi piace rispondere da sola a me piace interagire allora già che avete risposto che i dinosauri vi sono piaciuti già quello è un punto a favore del mostrare i dinosauri in un film che siano sbagliati che siano giusti perché almeno attraggono bambini giovani adulti ad andare a vedere il film andando a vedere il film la gente comunque sente parlare di dinosauri comunque si è passato ai dinosauri comunque fa arrivare soldi alla paleontologia perché il bambino da adulto il giovane va a vedere il film e poi vuole andare in museo vuole comprare il giocattolo quei soldi poi arrivano comunque a noi paleontologi in un modo o nell'altro quindi di base io sono favorevole a far vedere i dinosauri al cinema appunto poi siano corretti che siano sbagliati quello purtroppo potrei anche dire cioè io da paleontologo io dico a me piacerebbe che i dinosauri fossero sempre tutti quanti scientificamente accurati per le conoscenze del momento e non è così difficile da fare perché se prendiamo il film Disney Fantasia che non so se i più giovani avranno visto nel film Fantasia della Disney c'è una bellissima scena con i dinosauri che vista adesso sa di vecchio ma perché è del 1940 adesso siamo nel 2020 sono passati 80 anni però negli anni 40 quella era la visione migliore e più scientifica o più accurata scientificamente dei dinosauri quindi si può fare dei dinosauri accurati purtroppo Jurassic Park ha avuto l'effetto positivo di portare tante persone all'interesse dei dinosauri ma anche ha avuto l'effetto negativo di creare una sorta di mostro sacro il tirannosauro in quel modo il velociraptor in quel modo il triceratopo in quel modo e le persone si sono abituate a pensare al dinosauro come è in Jurassic Park e adesso se si presenta qualcosa di diverso la gente la gente perde interesse quindi posso capire da un punto di vista perché la Hollywood non voglia cambiare l'aspetto dei dinosauri quello lo posso capire perché hanno paura di perdere soldi tra virgolette però vedo anche che all'inizio la gente la pensava in questo modo voglio vedere il dinosauro vecchio da Jurassic Park ma adesso sto vedendo una nascita molte più persone che dicono no voglio vedere adesso il dinosauro corretto ciao Sara grazie mille quindi io adesso spero che nei prossimi film quando che si slegheranno dalla insomma dall'aspetto storico di Jurassic Park i dinosauri vengono adattati nella versione che conosciamo adesso punto di Lorenzo giusto? sì no scusa chi è che ha parlato di comportamento? Francesco ti do allora Francesco ti do ragione ma ma c'è un punto non non tutti hanno parlato di quando Owen Owen Greide il protagonista fa questo qui con i veloci raptor il click il click è utilizzato negli zoo per addestrare i coccodrilli in alcuni zoo come lo zoo di Colonia dove io ho studiato quando è tempo di mangiare esattamente come hanno fatto in Jurassic World gli addetti dello zoo arrivano con le loro ceste piene di topi morti galline morte e per richiamare i coccodrilli fanno il click esattamente lo stesso click che fa Owen e già lì i coccodrilli comunque sono animali molto più primitivi tra virgolette rispetto a un uccello ma poi gli uccelli sono dinosauri veri e propri adesso lo sappiamo sicuramente che gli uccelli sono dinosauri perché i dinosauri perché quei dinosauri che sono molto vicini agli uccelli come i velociraptor i velociraptor sono molto vicini agli uccelli noi noi possiamo benissimo addestrare corvi falchi pappagalli cacatua cacatua parrocchetti merli li possiamo addestrare lo fanno dal medioevo quella falconeria io sinceramente io non vedo cosa ci sia di strano nell'idea di addestrare dei velociraptor perché già lo facciamo i pappagalli che stanno sulla spalla dei pirati per buttarla in un aspetto molto popolare cos'è quello se non un dinosauro addestrato i falconieri che usano i falchi per cacciare e poi per farli tornare nel polso cos'è quello se non un dinosauro addestrato quindi ti do ragione nel voler addestrare un triceratopo sotto quel punto di vista con come fa Owen quello ok ma un velociraptor perché no perché no e ancora rispondere alla domanda di Valentina giusto allora se scaviamo San Benedetto di Trissino potremmo trovare qualcosa allora per chi non è della mia zona San Benedetto di Trissino è una frazione del mio paese Trissino che sta in collina sembra una domanda un po' così però è molto interessante perché la zona trissinese che è la zona delle prealpi di Centine è una zona di base secondo me qua Bernardetta potrebbe saperne anche più di me è una zona vulcanica magmatica e infatti le varie rocce nere che si trovano nei nostri torrenti i nostri fiumi sono dovuti ai basalti che si sono formati in tempo pal eocenico 50 dipende ci sono sia quelle eoceniche sia quelle triassiche però ecco nella zona di Trissino allora è interessante come negli anni oddio cos'era inizi del novecento credo perché ci avevo fatto un po' di ricerche sembra che dalla zona di Lovara che è un'altra frazione di Trissino sia stato trovato un coccodrillo fossile o perlomeno dei reperti attribuibili a dei coccodrilli fossili dell'eocene oligocene eocene che sono stati poi portati a Milano persi durante il bombardamento del museo quindi potrebbero esserci dei fossili nella zona trissinese non dinosauri purtroppo magari conchiglie zone cose di coralli qualche vertebrato tartaruga coccodrilli potrebbero esserci ma molto difficile molto c'è comunque la zona di Bolca che sta a mezz'ora di motorino mezz'ora cronometrata perché l'ho fatto però quella è un'altra zona geologica Francesco diciamo che nella zona di Trissino quella è un po' prima quindi la zona di Castelgomberto e Cornedo lì c'è una zona dove si trovano fossili marini soprattutto invertebrati e l'unico appunto vertebrato è il coccodrillo perché il coccodrillo quello che noi abbiamo in Mugeo che è un cucciolo è stato trovato nella zona della zona di Cornedo nelle lignite quindi qualcosina si trova ovviamente non nei livelli delle cose che trova che trova Filippo ecco questo sì il più piccolo purtroppo di sicuro se no lì a Trissino vicino al cimitero invece abbiamo scoperto più recenti diciamo perché lì hanno trovato reperti dell'età del ferro ecco però allora andiamo su un altro un altro settore tra virgolette esatto però qualcosa di più vicino a te Filippo sì da invallata c'è non così ma diciamo con le dimensioni a cui sei abituato tu magari ecco Francesco di sicuro non un sarco su che sarco su trovi in Africa e quello è Cretaceo purtroppo da noi nella zona mia vicentina i sedimenti non aiutano purtroppo c'era Francesco che voleva intervenire vai Francesco volevo fare una domanda diciamo più di fantasia quasi sempre riguardante un po' i film ovviamente c'è anche la questione quella degli ibridi che ovviamente non può essere reale e falsa e non possiamo raggiungerla in questa e neanche tra 10 20 30 anni però in un lontano futuro lei pensa che in qualche modo attraverso DNA e fossili di dinosauri si potrebbe fare qualcosa allora no secco no no ma l'idea del Jurassic Park era anche interessante prendo l'ambra c'è l'insetto dentro col sangue prendo il sangue traslo esatto Lorenzo sto arrivando lì purtroppo l'ambra di per sé e questa è una cosa che ha sconvolto anche me l'ambra contiene sì animali piante ma quello che vediamo è solamente il guscio esterno perché se noi prendiamo metti caso che hai un insetto grande così bello cicciotto un cervo volante in un'ambra così e la seghe a metà guardi dentro l'insetto dentro è vuoto perché è un guscio la cosa interna degli animali viene disciolta perché l'ambra non è un sistema chiuso è aperto c'è uno scambio di ossigeno quindi il DNA dentro non può rivanere quindi l'idea di prendere del sangue da delle cose dentro all'ambra no ma questo è un discorso molto difficile quando eravate voi bambini eravate nella pancia della mamma siete partiti da dei piccoli da delle piccolissime persone grandi quanto un'unghia molto piccoli e durante la crescita quando la mamma ha fatto il pancione voi siete cresciuti da l'unghia a voi a un cosetto di queste dimensioni quando crescete nella pancia della mamma voi passate dei momenti evolutivi che durano pochissimo ma cosa vuol dire in un secondo voi avete le branchie come i pesci poi le perdete una cosa che dura pochissimo in un secondo voi avete la coda perché i nostri antenati scimmi antropomorfe avevano la coda noi in un secondo pochi minuti abbiamo la coda e così tante varie caratteristiche strutture che poi vengono perse durante la crescita la stessa cosa succede ai polli se noi prendiamo un pollo quando sta dentro all'uovo l'embrione del pollo cresce e passa attraverso delle fasi evolutive in un momento specifico il pollo ha i denti la coda e le braccia non sono chiuse a pollo ma sono libere tipo velociraptor e un paleontologo sta lavorando su questa cosa per dire all'uovo non perdere i denti non perdere la coda e non bloccare le zampe ma lasciare tutto libero in maniera tale che alla schiusa viene fuori un pollo che sembra un dinosauro un pollo con una coda lunga con i denti nel becco e con le braccia da loro ora è una cosa molto difficile ma non così impossibile ci stanno lavorando ora non è che una volta creata sta cosa viene fuori un velociraptor che inizia a mangiare le persone no verrà fuori un pollo che avrà difficoltà a camminare a masticare perché è un pollo è solo un pollo che è strano però quello è al momento la cosa più simile più vicina che abbiamo nel ricreare un dinosauro quello è purtroppo e potremmo arrivare a un animale simile a un velociraptor però da un pollo ricreare un triceratopo no mi spiace no sono delle curiosità in chat delle giuste precisazioni lo sto leggendo infatti a proposito lo scienziato che si sta occupando di questa faccenda del pollosauro è la stessa persona sulla quale ha ispirato il personaggio del dottor Grant ed è la stessa persona che ho scarrozzato in giro con la macchina in Germania io l'ho incontrato a Roma ah sì quando è andata a Roma ogni tanto io l'ho ogni tanto lo becco in giro a conferenze e ci facciamo una birra insieme personaggio personaggio assurdo la paleontologia è ricca di personaggi assurdi Jack Horner Robert Bucker Robert Bucker l'ho conosciuto di persona è un personaggio è un personaggio appunto a me dà l'idea di essere un po' un cavallo pazzo non lo so non l'ho mai conosciuto sì un cavallo pazzo non lo tieni fermo quell'uomo ciao Valentina no Valentina io mi chiamo Giacomo ciao Giacomo mi fa ogni giorno una passeggiata e un giorno ho trovato questa una conchiglia a San Benedetto sì una conchiglia fossile che c'è anche dietro bello quando torno a Trissino tra un mese e mezzo la fai vedere wow così ti racconto ancora cose ha preso il volo proprio all'11 di aprile se no me lo cancellano quindi bene quindi farai la consulenza direi in presenza mascarina mascarina distanziamento certo Mattia potrei vedere un attimo una conchiglia per favore Giacomo riesci a mettere la conchiglia vicino alla telecamera che così Mattia la vede grazie un po' più su un po' più su porta in alto in alto eccola ah sì potrei pensare un pecten tipo del genere dei pettinidi penso sia un pecten che tanto da noi i pecten proprio ce ne sono buonasera posso fare buonasera francesco una volta sono andato a cavare qui a una volta sono andato a cavare a prima a Bona e a Bolca due zone che abbiamo tutti quanti scandagliato una volta anche sono andato in una montagna ho visto prima una grotta dove li trovavano diversi fossili dopo ho visto il museo che io per lì aveva e dopo sono andato a più un potticcino che ti davano una macchia o un mattello boi credo boi e dopo andavi là e ben devi starsi e li rompevi e trovavi i fossili l'abbiamo fatto e poi fatti al libro che c'era le orighe pesciaia di Bolca anche l'ho fatto lì sì Francesco allora una curiosità così random ti è mai capitato che durante uno scavo la gente venisse a curiosare da qualche parte che cosa staranno facendo intanto ciao Lorenzo giusto sì Huawei Mediapad T5 allora sì in Spagna sono venuti perché comunque lo scavo in Spagna era praticamente di fianco al paese se non dentro al paese quindi le vecchiette che abitavano di fianco lo scavo venivano ogni tanto a vederci quello sì in Portogallo sì perché comunque scavando in spiaggia persone passano e si fermano a chiedere in Nevada no perché eravamo in mezzo al deserto in Wyoming sì e no ovvero eravamo in un ranch privato quindi il rancher fucile in mano e non faceva entrare nessuno cowboy americani sono fatti così però è venuto lui con la sua famiglia e amici di famiglia quindi abbiamo avuto delle persone in Alberta no perché era una zona privata la vogliono tenere segreta per evitare che la gente vada a rubare fossili no di base hanno portato anche la mia ex in Wyoming a vedere lo scavo no di base le uniche persone che sono venute a vederci sono state quelle in Spagna quello sì e un'altra curiosità invece sulla Russia penso sei andato a vedere o comunque a studiare mi pare che un letto un fiume il letto di un fiume dove ci sono i fossili di Adrosauro il branco che è morto tutto non era non era un branco ma erano tante ondate di branchi perché la zona oddio non lo so sai non mi ricordo devo rivedere perché la zona dove sono andato a scavare io in Russia è innanzitutto l'area è estremamente gigantesca sebbene sia in mezzo alla città è una cosa incredibile il deposito va in profondità da almeno due metri due o tre metri ed è grande come un campo da calcio se non di più no di più di un campo da calcio e hanno scavato solo in alcuni punti ed è una successione continua di un fiume meandriforme quindi fiume che passa e che trasportava a quell'epoca carcasse e le depositava però appunto essendo così profondo il sedimento credo che quello sia un fiume che continuava a passare quindi non credo sia solo un branco ma proprio un continuo trasporto di cadaveri continui 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 un po' tipo il delta dello Cavango in Africa di adesso per dire ma quindi tra gli adrosauri che mi pare che sono state quelle più discorsi lì in mezzo ci dovrebbe essere qualcos'altro tipo non so qualche qualche coccodrillo coccodrilli no non mi pare mi pare che abbiano trovato dei denti di tirannosauride sì e di dromeosauride credo sì quindi cugini di tirannosauro velociraptor però questa è la cosa interessante che tantissimi scheletri di arbivori ma nessun scheletro almeno per adesso di dinosauro carnivoro ed è la cosa che succede spesso anche in altre zone c'è una zona in Svizzera con un sacco di plateosauri quindi i nonni dei codi lunghi scheletri completi ma quando dico completi intendo completi e neanche un carnivoro neanche uno c'è un carnivoro il cranio di un carnivoro che però viene da un sedimento più superiore quindi è più recente rispetto alla mandria di plateosauri nei plateosauri c'è una tartaruga la paleochemis paleochelis e basta plateosauri e una tartaruga per se io fosse interessato a recuperare tipo delle mappe geologiche di quelle di zone al di fuori dell'Italia che ci ho ci ho provato spesso perché io mi pare che tale che ho detto una volta faccio geologia e quindi oltre al disegno quindi vado mi piace ricostruire gli ambienti come quello non saprei dirti di base quando mi servono le mappe geologiche vado su nell'internet e cerco però non saprei dirti specificatamente dove purtroppo non bazzi con la geologia va bene te ringrazio nulla bene ci sono delle altre domande d'altri curiosità abbiamo abbiamo tirato avanti comunque quasi tu infatti sì ci abbiamo fatti no no non magari posso posso fare un'ultima domanda io sì dai ultima dopo esatto ultima se dovessi lanciare un messaggio a tutti i futuri paleontologi Filippo e sono andati via no c'è ancora c'è ancora c'è ancora Valentina giusto vai no è anche Francesco scusate è che viene comunque registrata questa riunione quindi chi lo vede quindi chi lo vedrà in futuro insomma se dovessi lanciare un messaggio ai futuri paleontologi che adesso che adesso in questo momento abbiano 8 10 12 16 18 22 25 anni che cosa gli diresti studiate inglese well that's accurate never underestimated English allora la cosa che dico allora quando io sono andato a chiedere consiglio come diventare paleontologo diciamo che non lo posso dire perché ci sono dei bambini però diciamo che il paleontologo che mi ha parlato non è stato molto gentile mi ha comunque indirizzato però diciamo che mi ha detto parafrasando molto mi ha detto vai a studiare giurisprudenza io invece vi dico questo se volete fare paleontologo prendetevi del tempo e ragionate tanto 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 se siete convinti al 50% di voler fare paleontologo lasciate stare fate qualcos'altro se dopo aver ragionato tanto 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 siete convinti al 100% lasciate stare se dopo aver ragionato tanto 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 siete convinti al 300% allora allora fatelo ma se siete convinti giusto un po' o giusto giusto ripensate ancora di più e soprattutto non finirò mai di ripeterlo studiate l'inglese studiate l'inglese studiate l'inglese studiate l'inglese perché perché le possibilità ci sono all'estero ci sono di andare a fare volontari agli scavi le possibilità ci sono le possibilità di parlare con paleontologi all'estero via mail via lettera via qualsiasi mezzo ci sono ma ovviamente non parlano italiano parlano inglese di base quindi se volete approcciarvi alla paleontologia se volete fare non provare se volete fare paleontologo imparate bene l'inglese tanto tutto il resto biologia anatomia geologia fisiologia paleobiologia istologia quelle arrivano con l'esperienza l'inglese invece viene anche quello con l'esperienza ma è meglio partire da una base quindi imparate l'inglese imparate l'inglese imparate l'inglese quello vi posso dire io l'inglese lo odiavo fino alla seconda media mi ricordo un gravemente non sufficiente io in inglese poi sono andato all'estero ho iniziato a leggere articoli di paleontologia ho visto che la paleontologia si muove in inglese ho detto boh o cambio rotta o qua ho dei problemi e adesso parlo meglio l'inglese che non l'italiano quindi questo è il messaggio che vi lascio bene Filippo grazie tantissimo e grazie a tutti voi perché è stata una bella molto partecipativa la serata quindi a me è piaciuta molto è l'ultima cosa sì vai Mattia allora ultimamente ho letto un libro sulla sulle scoperte sulle più importanti scoperte paleontologici dinosauri che tipo un saggio di un certo professore c'era 25 dinosauri fantastici e chi li ha trovati questo qua più o meno il titolo ok e qui diceva che i primi proprio i primi quelli che scopriano i primi fossi quei primi dinosauri erano me erano sacerdoti sì perché sì perché 1700 1800 chi si occupava dello studio della natura erano essenzialmente due i sacerdoti perché loro volevano trovare la la presenza di Dio nella natura e quindi studiavano la natura come oggetto religioso quindi i primi i primi che hanno che hanno studiato almeno in Europa perché all'estero al di fuori dell'Europa il discorso è diverso i primi che hanno studiato i fossili come oggetto religioso quelli sono stati i sacerdoti oppure i medici perché comunque i medici avevano dell'interesse nella storia della vita per l'aspetto medico e si sono messi anche loro i denti di guanodon sono stati trovati da Mantel che era un medico quello si che a proposito di queste cose una delle una delle primissime tipo i inseri in uno dei primi inserimenti tipo un fossile che poi è stato riconosciuto come fossile ma che era tipo la parte terminale di una di una tibia di megalosauro non dire il nome non dire il nome è stata molto mal interpretata da dalle prime persone che l'hanno catalogata come apparato maschile fossilizzato bene bene grazie mille ancora a tutti e buon fine settimana grazie a tutti grazie per le interazioni ciao grazie alla prossima ciao grazie grazie a te benardetta alla prossima vogliamo sapere dove andrai a finire grazie somewhere over the label grazie a te grazie a te